Ecco, che esperienza è per te che sei stato già in Abruzzo? No, sicuramente è un'esperienza bellissima, sono stato già qui tre anni fa a Lanciano e sapevo l'importanza della piazza di Pescara, sono contentissimo di essere qui e non vedo l'ora di giocare per far vedere le mie qualità e aiutare la squadra. Senti, conosci in parte già l'Abruzzo, però forse qualche indicazione sul Pescara te l'ha data Ciro Immobile? Sì, sono in contatto con Ciro anche perché per casa mi ha aiutato lui per cercare casa perché la moglie è di qui vicino, quindi sì, anche lui mi ha dato dei consigli, mi ha detto subito di venire qui. Cosa ti ha detto? Appena gli ho detto che c'era la possibilità di venire a Pescara mi ha chiamato e mi ha consigliato subito di venire qui in Abruzzo perché sicuramente la società e le ambizioni sono belle. Senti, il tuo ruolo, perché sei un po' un jolly, no? Centrocampo ma anche difesa. Sì, io sono una mezzala, però anche parlando con il mister ho fatto anche il quinto, quindi farò il terzino, mi ha detto che mi farà fare il terzino, però diciamo la fascia la posso fare tutta che ho sempre giocato ovunque a sinistra. Senti, hai fatto una grande stagione con la Ternana, 34 presenze se non sbaglio, poi hai avuto qualche problema perché questa esplosione che sembrava potesse esserci poi non c'è stata. Sì, sono partito bene il primo anno, poi ho fatto un po' più fatica gli anni passati dopo Terni, due anni a Modena, Avellino, poi sono tornato alla Lazio, mi sono tolto delle soddisfazioni, ho giocato, ho fatto gol in Europa, in campionato, ho giocato e adesso sono qui e darò tutto per pescare. Senti, le ambizioni di squadra e i tuoi personali? Assolutamente di squadra, di arrivare il più in alto possibile, la Rosa è competitiva, siamo tutti bravi, il gruppo è bello, ci siamo trovati tutti bene, personali mie di far bene, di aiutare la squadra, comunque sperare nel giocare il più possibile, star bene per aiutare, come ho detto, la squadra. Al netto di eventuali scioperi, sabato prossimo c'è la prima a Cremona, che impegno sarà? Sicuramente non è un impegno facile perché la Cremonese ha fatto vedere anche l'anno scorso che è una buona squadra, andremo lì per giocarcela, sicuramente vogliamo far bene per iniziare bene il campionato.